Continuità e porta blindata sono i due fattori a cui si affida il Gravina, tornato a fare del fattore campo un punto di forza. Sono quattro i punti ottenuti tra Fasano e Cerignola in altrettanti giorni, sintomo di un calendario compresso. Si gioca molto spesso, due volte al mese, tre volte a settimana. Quindi avere una lunghezza rosa e anche un'omonegeità di organico importante farà poi la differenza. Quindi avere quei 18 giocatori, quei 20 giocatori su cui può contare, fare anche un turnover per poter avere sempre la massima efficienza da tutti è una componente importante. Quindi sicuramente se guardiamo al mercato, guardiamo perché comunque sappiamo che è un campionato difficile. Nel Gravina di gennaio, nonostante una sola vittoria, si vede la mano di Marco Gaburro, l'ex allenatore di Gozzano e Lecco, scelto per prendere il posto di Tony De Leonardis, ha vissuto il suo benvenuto al sud con cinque gare nell'arco di 18 giorni. In casa sono arrivati due pareggi e una vittoria. A mancare sono i punti in trasferta con il K.O. di Andrea Molfetta. La scelta di Mistra Gaburro è stata quella di portare l'allenatore migliore, il profilo migliore, secondo le esigenze che aveva questa squadra e gli obiettivi che aveva questa società. Anche qui devo fare i complimenti alla società per aver condiviso la scelta e per l'umiltà con il quale stiamo lavorando per poter raggiungere quello che è l'obiettivo a breve scadenza, che è la salvezza valorizzando il più possibile il territorio. Anche per Maule, originario di Rovereto di Trento e una carriera al nord, quella di Gravina è la prima tappa al sud da direttore sportivo. La Puglia mi sta dando molto dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale. Avere un confronto quotidiano con colleghi della zona capisci anche le differenze che possono esserci tra quello che è il calcio a nord e il pettosto che a sud. Alle porte c'è un trittico di impegni dal quotiente di difficoltà elevato. Si parte domenica a Lavello, passando per il turno infrasettimanale contro il Bitonto e chiudendo in trasferta a Sorrento. Ogni partita è insidiosa, lo è insidiosa per tutti, ha maggior ragione per noi, che comunque sappiamo che tipo di classifica dobbiamo avere a fine dell'andata per non soffrire così tanto, per non fare un girone di ritorno straordinario per raggiungere l'obiettivo salvezza. Noi sappiamo che la salvezza ipotetica è ai 40 punti, quindi bisogna girare a fine andata dai 17 punti in su, se no è molto complicato il cammino per la salvezza.